Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A12 i lavori per il ripristino di un incidente tra chilometri 110-100 e 110-200 tra Carrara e Massa in direzione Rosignano. Sul raccordo Siena-Firenze è scambio di carreggiata tra Colle di Valdessa Sud e Badesse in direzione Siena. Sulla tangenziale di Siena è chiuso per lavori lo svincolo di acqua calda. Sulla statale 1 Aurelia è scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Per la viabilità cittadina a Firenze il Viale Truri ha bloccato per un incidente. È stato chiuso il sottopasso da Viale Talenti. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!